Presa! Dai, ragazzo! Mandala! No! È il mio vaso preferito! Ops! Un altro giorno, un'altra pile di piatti! Ne ho abbastanza! Tesoro, questo è per te! Ciao! Questo è mio padre! È molto dolce e ama molto la mamma! Un altro piatto sporco! E questa è mia madre! Parla sempre a voce alta! Io ho dieci anni! Quanti anni hai tu e i tuoi genitori? Scrivile nei commenti! Allora! Spolverate tutto e lavate il pavimento! Tutto chiaro? Questo è per te! E questo è per te! Al lavoro! Non bisogna lasciare neanche un granello di polvere! Non possiamo far arrabbiare la mamma! E si alza un po'? Molto meglio! L'hai visto? Alziamo al massimo! La mamma ci ucciderà! Dov'è finito tutto? Oh no! Ma che hanno fatto? Mamma! Papà! Posso tenerlo? Oh no! Non esiste! Io ho un'idea! Seguimi! Avete visto un cane? No! Assolutamente no! No! Neanche io! Va bene! Il nostro piano ha funzionato! Ops! Che carino! Vergognatevi di voi stessi! Rivoglio le scarpe come nuove! Come nuove? Certo, tesoro! Sì, ci pensiamo noi! Ciao, mamma! Aspetta! Ti sei dimenticato questi? Dai, mamma! Cappello! Sarpa! Guanti! Sei pronto? Ragazzo! Oh no! Adesso ci pensa papà! Questi ragazzi alla moda sono pronti a conquistare il mondo! Questi ragazzi alla moda stanno morendo di freddo! Mamma mia, che freddo! Termometro e tè caldo! Adesso vi aiuto io! Ma come vi viene in mente di uscire al freddo con quei vestiti? Quante volte vi ho detto di vestirvi più pesanti? Non mi date ascolto mai! Buon compleanno! Ecco il tuo regalo! Una veci! Sì! Ecco qua! Tieni il manubrio stretto e non aver paura! Puoi farcela! Perché sei seduto? Papà ti insegna! Andate avanti! Mi prendo una pausa! Adesso fai quello che faccio io! Papà, fammi provare! Aspetta figliolo! Un altro giro! Che è successo? Papà ha rotto la bici! Ma che hai fatto? Che stavi pensando? Guarda! Che cosa? Ehi! Buongiorno! È ora di lavarsi i denti! Dai, bravo! Buongiorno! Guarda cosa ti ho portato! Nutella! Stupendo! Mi sono lavato i denti e ho mangiato allo stesso tempo! Ma cosa hai fatto? Non ti sei più lavato i denti? E guarda che casino! Questo film è troppo spaventoso! Non riesco a guardare! Non guardare neanche tu! Dai! Siamo coraggiosi! Non ci fa paura niente! Comunque, io me ne vado! Era proprio un film dell'orrore! Dai, andiamo a letto! Chi è? Non ce l'ha fatto dormire! Non ce l'ha fatto dormire! Guardiamo qualcosa di più divertente! Troom Troom è il meglio! Il pranzo è pronto! Una sana e deliziosa insalata! Che schifo! Un'altra insalata! Buon appetito a tutti! Mi è caduta la forchetta! Ti aiuto! Forza! Non abbiamo molto tempo! Che buono! Cosa? Uscite subito! Niente caramelle! Mangiamo solo cibi sani! Uscite, tesoro! Mamma e sci è proprio buono! Adesso sì! Un po' di più! Ci sono quasi! Tesoro, è ora di andare a dormire! Domani hai scuola! Mamma! Vai a dormire! Ragazzo! Ho collegato un altro controller al gioco! Papà, sei il migliore! Vai! Non possiamo svegliare la mamma! Aspetta! La musica classica è la sua preferita! Così non ci sente! Adesso possiamo giocare! E vai! Superiamo questo livello e poi andiamo a dormire! È il livello successivo! E il prossimo? Un altro? E ancora? A volte è impossibile fermarsi! Che ore sono? Wow! Devo andare al lavoro! E io devo andare a scuola! Oh povero! Non hai dormito abbastanza! Ma prendi lo stesso una F! La lezione è finita! Che cosa? Perché una F? Eccoci qua! Tesoro, puoi tagliarti il casco! Mamma, posso guidare? Oh no! Sei troppo giovane per questo! Papà! Andiamo a guidare! Mettite il casco! Ultime notizie! La polizia sta inseguendo un guidatore spericolato! Quella è la nostra macchina! Oh no! Chi è? Ma cosa è successo? Agente! Ho passato tutta la giornata a inseguire questi due! Non ho nemmeno avuto il tempo per pranzare! È colpa sua! Ma siete matti! Siete entrambe in punizione! Arresti domiciliari! Buona giornata a scuola! Mamma, devo dirti una cosa importante! Mi piace questa ragazza! Oh! So esattamente cosa fare! Una bella pettinatura e non dimenticare i fiori! Sei perfetto! Ragazzo, ma cosa hai fatto? Non puoi conquistare il cuore di una ragazza conciato così! Ho un piano! Oh! Veramente! Ciao! Accomodati! Eh... Grazie! Il mio cuore è tuo! Per sempre! Per me! Che sorpresa! Una serenata per due cuori innamorati! Mi amor corazón! Ben fatto figliolo! Fantastico papà! Che cosa ne pensi? È un po' troppo! Che cosa ci fate qui? Uscite! Devo andare! Che macello! Salve capo! Signorina Rogers! È bellissima oggi! Mi amor corazón! Ti è piaciuto il nostro video? Allora commenta sotto e dici se vuoi vedere il seguito della storia! Poi schiaccia il pulsante iscriviti, metti mi piace e clicca sul campanello! Non perdere nessun fantastico video di Woohoo o Amazon!